Buongiorno, sono Liliana Seghizzi, condomina e consigliera di condominio da diversi anni. Al convegno che si terrà a Monza il prossimo giugno mi piacerebbe venire a dare delle risposte in merito all'argomento violenza nei condomini, sotto almeno un duplice aspetto. Il primo è quello del rispetto del regolamento e cosa può fare l'amministratore con un pugno un po' più di ferro, come si suol dire, per farlo rispettare da quei condomini che invece se ne fregano, oltre a verbi verbali ma anche maneschi, come è successo dove abito io, anche per quanto riguarda la raccolta differenziata e quindi non solo il rispetto ma proprio vivere civile fra tutti noi senza recare disturbo e danni. secondo me è una convivenza forzata che va meglio regolamentata dando maggiori poteri all'amministratore. Non so fino a che punto sanzionatori e non so se di altro genere, comunque mi piacerebbe che mi venisse data una risposta in questo senso. Anche per quanto riguarda la sostenibilità, chi ha soprattutto la fortuna di abitare in un condominio con del verde, quindi con dei giardini, fiori e anche un prato, mi piacerebbe fosse rispettato questo anche dai proprietari di animali, soprattutto dei cani, in modo, ripeto, di convivere in modo più civile e pulito per tutti. Grazie.